Riposo forzato per il Licata che domenica non scenderà in campo per osservare il previsto turno di riposo. Il numero di isperi delle squadre partecipanti al girone B del campionato di promozione, 15, impone infatti che ogni domenica una delle squadre si fermi. Nella prossima giornata toccherà appunto agli uomini di mister Mimmo Bellomo. Il tecnico avrà l'opportunità di poter lavorare con serenità e con rinnovato entusiasmo dopo la vittoria in extremi sottenuta domenica al Dino Liotta, a spese del Canicattì, piegato al 95esimo da un gol in mischia del difensore Antonio Ortugno. Alla ripresa il Licata se la vedrà in trasferta con il Ravanusa allo stadio Saraceno nel secondo derby agrigentino a distanza ravvicinata. Le buone notizie per il trainer gialloblu arrivano anche dalla giustizia sportiva. L'attaccante Fabio Vennero ha infatti finito di scontare i due turni di squalifica inflitti in seguito al cartellino rosso rimediato alla prima di campionato con il Ragusa e tornerà a guidare l'attacco gialloblu. L'assenza del bomber, tre gol nelle prime due uscite stagionali di Coppa contro la polisportiva Palma, si è sentita parecchio nelle gare con Nisse e Canicattì in cui è mancato lo sbocco offensivo. Della prossima rientra Vennero avrà un riferimento importante davanti. Certo, rientra Fabio e quindi diciamo che recuperiamo sicuramente simmetria offensiva e peso. Non si registrano altre defezioni con tutta la rosa regolarmente a disposizione del tecnico Licatese.